... Appuntamento del mattino con l'informazione su Fano TV, canale 17. C'è la rassegna stampa, occhio ai giornali, un commento e una selezione delle notizie più importanti sui quotidiani di oggi, il resto del canino del Corriere Adriatico. Iniziamo dal Santo del Giorno, poi il tempo e l'ultima ora della notte. Allora, il Santo, insomma, oggi per le marche, per il mondo intero, anzi possiamo dire così, ricordiamo e celebriamo, festeggiamo la Beata Vergine Maria di Loreto. Il sole sorgerà alle 7.34 e tramonterà alle 16.31. Per oggi il bollettino della protezione civile delle marche prevede un cielo irregolarmente nuvoloso con maggiore copertura nel corso del pomeriggio e ci saranno delle piogge, piogge sparse in transito dalla fascia montana, quella collinare e poi costiera. Il limite delle nevicate sarà attorno ai 1.100 metri, quindi più o meno intorno alle 18 di oggi pomeriggio la pioggia sulla costa. Temperature di diminuzione in particolare nei valori massimi. Per la giornata di venerdì 11 dicembre ancora cielo irregolarmente nuvoloso, soprattutto al mattino con aumento della copertura e cielo nuvoloso invece nel corso del pomeriggio. In serata avremo ancora piovaschi possibili nel settore montano con limite delle nevicate attorno ai 1.300 metri. Le temperature ancora in diminuzione, sabato 12 ancora cielo nuvoloso con brevi piovaschi soltanto in montagna nel corso del pomeriggio e lungo la fascia costiera. Giornata di domenica con probabile debole instabilità e poi la prima parte della prossima settimana invece in netto miglioramento. Allora, volevo farvi vedere, ma sono andato un po' troppo veloce, la notizia del giorno che purtroppo la morte di Paolo Rossi, il grande calciatore, andiamo a vederlo sul sito del Corriere della Sera, L'eroe dell'Italia, campione del mondo del 1982, è stato purtroppo sconfitto a 64 anni da un male incurabile. Addio al calciatore campione del mondo, titola il Corriere di oggi, l'eroe gentile dell'Italia, quella che batte il Brasile di Zico e regalò al paese il sogno mondiale. L'annuncio della sua morte è arrivato dal profilo Instagram della moglie, Federica Cappelletti, eroe indiscusso del Mondial 1982 che lo riabilitò dallo scandalo scommesse. Era considerato una divinità, tra virgolette ovviamente, anche dai cronisti brasiliani che subirono attoniti la straordinaria tripletta di Italia-Brasile 3 a 2. E insomma un altro pezzo della nostra storia, perlomeno calcistica. E adesso i giornali, il resto del Carlino edizione di Pesero, la tragedia all'incrocio, mezzo dei vigili del fuoco investe una donna in bicicletta, lei purtroppo muore sul colpo. Il titolo d'apertura è per il Covid però che riesplode in un focolaio a Casa Roverella, allarme rosso nella casa di riposo falcidiata a marzo, circa 15 le persone positive, appello del Comune all'area vasta. Accusati invece di intascare i soldi delle vestizioni dei defunti, assolti sei necrofori dopo dieci anni. E andiamo a vedere le altre dalla prima, la maxi operazione che sta per partire sugli screening di massa, dunque individuate cinque aree per effettuare i tamponi. E poi si parla del DPCM e delle feste, gli spostamenti soprattutto fra i comuni. Acquaroli chiama il ministro Speranza. Sindaci a confronto, incontro riciseri, pace fatta sull'arretramento della ferrovia adriatica. E poi la storia senza confini, da Como a Fano, camminando, ne parla anche la BBC. Sotto, di taglio basso, Fano nel finale sul Legnago, primo successo dei Granata. Granata autorevoli e sempre protagonisti, decide Neipi all'84esimo, Barbuti sbaglia su rigore. Poi la festa di compleanno di Arnaldo Forlani, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri. I primi 95 anni di Forlani il passista, una piccola torta e qualche regalo. Così ha trascorso il giorno della sua festa. Il Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro, stazione Il Risico della Sosta, titolo d'apertura. Il Comune acquista i terreni di proprietari ferrovie dello Stato, ma resta il nodo Porta Capucina. RFI mette 8 milioni per la riqualificazione dell'area, con l'anno nuovo via alla fase di progettazione. A centropagina la cronaca, donna in bici travolta e uccisa, investita da un mezzo dei pompieri. E poi la grana di Natale con Acquaroli che chiama Speranza, una deroga per i paesi, soprattutto appunto i paesi quelli piccoli, che a volte vengono divisi semplicemente da una via. Necrofori, innocenti, assolti i sei imputati dopo sette anni di attesa. Poi screening di massa ai cinque luoghi scelti per fare i test. Sul calcio di Serie C fanno prima vittoria nel giorno dell'addio al Presidente Gentili. E poi la Croce Rossa che piange il pioniere serio, il gigante medaglia al merito. Le pagine interne dei nostri quotidiani. Allora oggi per noi marchigiani è una giornata importante perché oltre a celebrare per i fedeli la Vergine di Loreto, c'è anche la giornata in cui si celebra e si premiano i marchigiani, diciamo che si contraddistinguono per meriti e quant'altro. In realtà in questa edizione siamo un po' tutti premiati. Perché? Perché è una edizione intitolata Le Marche che resistono i nuovi eroi, testimoni del nostro tempo. E allora siccome anche noi nella battaglia al virus siamo coinvolti in primis, anche se non siamo medici, anche se non siamo scienziati e quant'altro, allora siamo premiati un po' tutti quanti. Si svolgerà oggi alle ore 17 a Loreto la giornata delle Marche in diretta dal Museo Pontificio, Santa Casa di Loreto, Salone degli Svizzeri. L'appuntamento è su Fano TV in diretta per tutta la Regione Marche alle ore 17. Verrà dedicata ai nuovi eroi in prima linea nella lotta al Covid-19 e ad ogni marchigiano chiamato appunto a fare la propria parte per fronteggiare la diffusione della pandemia. La giornata che celebra le Marche infatti è dedicata al mondo socio-sanitario marchigiano in prima linea dallo scorso inverno per difendere la popolazione nella fase complicata e delicata della pandemia. Questa invece è l'altra pagina. Ecco qua, dicevamo, dei 95 anni di Arnaldo Forlani. In questa fotografia che pubblica il resto del Carlino lo vediamo in spiaggia, in una delle stati pesaresi. Ha festeggiato nella sua casa Roma dinanzi a lui una torta sobria, scrive Giorgio Guidelli, qualche pacchettino regalo e fogli stampati con centinaia di auguri. Auguri che gli sono arrivati anche attraverso Facebook, pur naturalmente non essendo social, però evidentemente c'è una pagina lui dedicata alla quale poi hanno scritto, nella quale hanno scritto i tanti volti noti e personaggi politici noti della politica che fu. Fermi tutti, ora carriera studia da politico, siamo sempre sul Carlino, la pagina di Pesero. Il ristoratore, del quale tanto abbiamo parlato nelle settimane scorse, presenta il Movimento Liberale Italiano. Dice di essere un faro nel buio, non è un partito, diamo rappresentanza a chi non ce l'ha. Le loro iniziative saranno di disobbedienza civile che manifesterà il dissenso. In programma ci sarebbero appuntamenti a Venezia, Palermo e Roma, quest'ultimo, il 23 di dicembre. Intanto si discute anche sulle pagine nazionali dei quotidiani di questi dpcm, di come si farà la spesa, lo shopping nei prossimi giorni, di come e quando ci si potrà spostare e delle cene, soprattutto in famiglia, perché per i pranzi abbiamo visto i ristoranti saranno aperti, il dilemma è sulle cene, i divieti di Natale, però che l'Italia non capisce. Cresce il pressing sul governo per rivedere le regole del dpcm, ma le ultime facche, che sono le domande e risposte, ribadiscono la linea dura praticamente sotto il periodo delle feste. Perché c'è questa linea dura che il Comitato Tecnico Scientifico vorrebbe non ammorbidire? Perché si sta già parlando di questa benedetta o maledetta terza ondata che, se non faremo i bravi durante le feste di Natale, potrebbe arrivare nel corso del mese di gennaio, quando poi ci sarebbe anche da fare i conti, poi anche con il virus influenzale, quello che non è che è scomparso nel nulla, quindi ci sarà anche quello e oltre a quello va aggiunto il Covid-19. Capite che la situazione potrebbe complicarsi. Intanto sui tamponi di massa, conto alla rovescia, ecco i cinque luoghi in cui si faranno. Il Comune di Pesero ha individuato le aree, Vitrifrigo Arena, Alpala 3 di Villa Ceccolini, alle palestre della Celletta di Baia Flaminia e della Scuola Carducci. La data di partenza di questo screening è il 18 dicembre. Questa è una cosa molto importante che va ricordata, ovvero che l'operazione sanitaria più imponente che si ricordi nelle Marche, questa operazione di screening di massa per misurare l'incidenza del coronavirus nella popolazione partirà sabato 18 dicembre, con l'obiettivo di arrivare a 900.000 test, tracciando così il 60% dei marchigiani. Fatte le debite e proporzioni, nella nostra provincia dovrebbero rispondere volontariamente alla chiamata dalle 12 alle 14.000 persone. Per il rientro a scuola invece c'è una task force in prefettura. Ieri una riunione del tavolo tecnico per garantire il trasporto scolastico. Dal 7 gennaio le lezioni torneranno in presenza per il 75% degli studenti. La cronaca invece è sempre sul Carlino, va in bici travolta, muore una donna di 56 anni, è una moldava involontariamente urtata da un mezzo dei vigili del fuoco all'incrocio tra la Statale Adriatica e via Bucari. Una fatalità, un tragico impatto e purtroppo questa donna che è stata investita è morta sul colpo. L'incidente è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 17.00. I necrofori tutti assolti dopo dieci anni, questo è il titolo della pagina 9 del Carlino di oggi. Ieri, scusate, in sei erano accusati di aver intascato soldi destinati all'Asur per la vestizione dei defunti, lacrime e abbracci dopo il verdetto. Il PM aveva chiesto 23 anni di carcere complessivi per cinque di questi sei imputati. Arretramento della ferrovia, pace fatta, Pesero e Fano ci sarà, dicono, un progetto unico. Un incontro chiarificatore tra Ricci e Seri sotto l'egida dell'assessore Pozzi a lavoro per una soluzione tecnica utile ad entrambe le città. Intanto, verso il Recovery Fund, tra le priorità del Ministero, rientra appunto l'arretramento della tratta Adriatica. Oggi c'è un incontro anche per, a Pesero, aumentare gli stalli a San Benedetto. Via Curiel cambia look e dice addio a dieci parcheggi. Belloni saranno redistribuiti, forse al Carducci. A Fano un grande presidente, un piccolo addio. Ieri a San Paterniano il funerale di Gianni Gentili. In chiesa una cinquantina di persone, ma nessuna rappresentanza ufficiale dell'alma. Nel piazzale davanti alla chiesa di San Paterniano due ex atleti hanno commentato con un po' di amaro in bocca. E hanno detto incredibile che non ci fosse nessuno della società, nemmeno un gagliardetto, un rappresentante. Se ce l'avessero detto avremmo di cuore fatto noi rappresentanti dell'alma. Una cosa che ci ha lasciato stupiti. Cose che amareggiano. Presenti invece solo gli ex Granata Barbaresi e Servadio, che appunto sono i due che hanno commentato fuori nel sagrato della chiesa di San Paterniano, dicendo appunto siamo amareggiati. Anche il Corriere Adriatico ne parla di questo ultimo saluto a Gianni Gentili, un vero combattente. Orgoglio e commozione. Padre Dino ricorda l'aneddoto del bimbo che rischiò di perdere una gamba. Poi alcune testimonianze toccanti. Ieri va detto che mentre c'era appunto il funerale, si svolgeva il funerale dell'ex presidente del Fano Calcio Gianni Gentili, allo stadio Mancini di Fano si giocava la partita, c'era la partita del Fano che poi come vedremo ha vinto. La moglie lo saluta dalla finestra di casa, le glorie dell'alma presenti appunto durante la cerimonia. Sempre da Fano, questa volta sul Corriere Adriatico, variante, Ceriscioli senza visione, sia un'opera da Marotta a Gabice, statale adriatica, Baldelli favorevole alla progettazione integrata, ma per Gimarra c'è una convenzione firmata. E poi Dante, ricorda il Corriere Adriatico, Dante e la città della fortuna, il tema dell'incontro del Bianchini su Fano TV, stasera alle 21.20 e domenica alle 21.00 con Andrea Angelucci, che vedete nella fotografia. Sotto invece di taglio basso, sulla pagina di Fano del Corriere, triplicati i fondi per gli istituti scolastici statali, da 40.000 a 110.000 euro, e l'assessore Mascarin dice una proposta forte e ora opportuna. Variante di Gimarra da ripensare, Asse, Baldelli, Ruggeri, Vitri, Tuona, l'assessore invita ad avere una visione più ampia, la consigliere invece del PD dice occasione unica, si sblocca lo sviluppo. Intanto dal Comune di Fano un regalo di Natale alle scuole statali, stanziati 70.000 euro in più, in totale 110.000 euro. Guardate questa fotografia che pubblica invece il Corriere Adriatico sulle sue pagine interne, cinghiali a passeggio sulla Statale, una famiglia di ungulate a Colombarone, e davvero fa impressione vedere tutti questi cinghiali a spasso per la strada lungo la carreggiata, hanno attraversato la Stratale all'altezza di Colombarone, passeggiando poi lungo la carreggiata. Sono gli ungulate che sono scesi dal San Bartolo, percorrendo la stradina che poi sbocca sulla Statale. Vallefoglia, Casa della Salute, Salta Martini dice no, servizi già potenziati o completi, l'assessore regionale alla Sanità ha respinto le istanze di vitri biancani per il Comune di Vallefoglia, ma la consigliera del PD ha lamentato una risposta sbrigativa. Serve altro personale. Poi da Urbino, il coro 1506, però si dica così, canta la più bella musica della Terra, il contributo dell'Università di Urbino, scelto dalla Rete per lo sviluppo sostenibile. Dalla pagina del Carlino fino al 14 invece di dicembre, le domande per chiedere i buoni spesa. Sempre per gli urbinati, residenti e le famiglie in difficoltà possono avviare la pratica con il Comune, voucher che variano tra 250 e 450 euro. E ecco chi ne ha diritto. Poi la notizia della morte del direttore della fotografia Claudio Meloni, morto per Covid a Torino, il professionista urbinate, viveva ormai nel capoluogo piemontese da alcuni decenni. Mentre sull'altra pagina di Urbino, questa volta del Corriere Adriatico, faremo tornare i servizi sanitari negli ospedali chiusi o smantellati, l'impegno di Baldelli per l'ospedale di Cagli, Urbino, scusate, per l'ospedale di Cagli, ultimo piano abbattuto e ricostruito. Mentre sulla residenza di Montefeltro, che è immune dal Covid, il PD segnala che nelle due ondate della pandemia non c'è stato alcun positivo all'interno di questa residenza per anziani che si chiama appunto Montefeltro, che ha sede a Urbino, praticamente a due passi dall'ospedale. Val Metauro, residenza protetta, il Comune delibera uno sconto di 60 mila euro, la società concessionaria ha contestato per via legale lavori svolti per 100 mila euro, poi qui di spalla anziano al volante non si accorge dei lavori che ci sono sulla strada e fa filotto di tre automobili. È successo a Fano un tamponamento a catena sulla via Flaminia, l'episodio intorno alle 15.50 di ieri pomeriggio. La BCC di Fano invece dona 100 saturimetri all'USCA. I malati di Covid che si trovano a casa potranno così monitorare i loro parametri vitali. L'addio dopo la commozione nazionale. Ora la Croce Rossa italiana piange il suo fondatore. Siamo sulle pagine della Val Cesano. Marcello Seri è morto a 93 anni. I tre figli l'annunciano con un post. Grazie a lui nacque anche il Marotta Calcio. Così funziona la vita. Come sempre ha lottato fino alla fine. Stefano Seri, il figlio maggiore, ricorda così il padre Marcello che prima è stato premiato e poi qui sulla terra e adesso probabilmente verrà premiato in cielo. Babbo era uno di quelli. Dice il figlio che se c'era da entrare apriva a qualsiasi porta. Oggi alle ore 15 ci sarà il suo funerale. Si è spento dopo 33 anni alla guida della parrocchia Don Giuseppe Pierini. Si è spento nella notte Don Giuseppe Pierini per oltre 30 anni parroco del centro roveresco. Siamo a Mondavio. È morto nel sonno. Aveva 80 anni. Un punto di riferimento per la comunità di Mondavio dove era stato ordinato presbitero il 27 giugno del 1965. Da Senigallia, Viale Garibaldi e Strada Roncitelli. Ecco le priorità dei lavori pubblici. i cantieri si apriranno nel 2021. Già partita la manutenzione straordinaria di via Don Minzoni. Mangialardi, il report triste strumentalizzazione. Poi il Celli non va smantellato. Siamo sulla pagina di Fossombrone, Cagli e Urbania del Carlino. L'assessore Baldelli ricostruisce in consiglio il caso del piano da battere. Rossi vigilerò sul ripristino. Intanto oggi il funerale del ristoratore Guido Sabatini morto a 51 anni anche lui nel sonno all'improvviso lunedì dopo le 2 in piena notte nella sua casa attigua al ristorante Ostinati che gestiva da qualche anno sempre a Cagli. Sotto invece questa è l'intervento di Giorgio Cancellieri che è un cittadino ex sindaco di Fermignano medico e ora consigliere regionale e che dice sui contagiati covid di Fermignano si è fatto terrorismo mediatico. Il consigliere dice statisticamente non siamo molto al di sopra. Anche qui il giornale il resto del Carlino ricorda la figura del parroco scomparso. Si è spento all'improvviso Don Giuseppe Pierini aveva 80 anni. Mondavio piange il suo storico parroco. Poi morto seri anima della Croce Rossa modello di impegno civile e poi sotto variante alla statale ultimi ritocchi a San Lorenzo in campo conto alla rovescia per liberare il centro dal traffico. Guardate questa fotografia non c'è tanto bisogno di commentarla. Ognuno penso possa farlo da solo al di là del gesto non la persona chiaramente ognuno si fa quello che vuole nel senso nel limite della decenza ma al di là ecco il gesto questa foto stiamo parlando di Sfera e Basta questo cantante questo rapper 28 anni che ha festeggiato sui social il suo compleanno con questa fotografia con questo gesto nello stesso giorno in cui dalle nostre parti insomma si ricordava la strage di questi ragazzi che non ci sono più il papà di Mattia Orlandi uno dei ragazzini che è morto dice almeno ci rispetti ed è bufera sul dito medio di Sfera lo sport invece fanno ecco la prima vittoria siamo sul corriere adriatico i Granata battono il legnago a sei minuti dalla fine grazie al gol di Nepi Barbuti aveva anche fallito un rigore tre punti fondamentali in ottica salvezza con la squadra di destro che torna concretamente dunque a sperare l'Alma Juventus Fano che ha vinto 1-0 allo stadio Mancini di Fano ieri questa è la classifica dunque vedete non è che cambia molto ma comunque sempre per ultimi però abbiamo quasi raggiunto il Ravenna la Fermana siamo più o meno lì la Vispesero che ha 12 vedete ecco questo è un po' il colpo d'occhio di com'è la situazione in classifica stavolta è andata bene dice il patron Fattò Offidani e mister destro che tirano un sospiro di sollievo finalmente sono arrivati i tre punti che soprattutto servono per lo spirito a livello psicologico Nepi al settimo cielo sono strafelice che il mio gol sia servito per la prima vittoria del Fano la Vis sognava invece il playoff invece rischia il play out la squadra bianco-rossa mai così male da quando è tornata tra i professionisti a gennaio sarà difficile piazzare giocatori che hanno contratti triennali e questa era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa vi faccio vedere velocemente a beneficio di coloro che si fossero messi così davanti alla televisione oppure sui social in questo momento e hanno perso la prima parte vi faccio vedere soltanto le prime pagine del Carlinio del Corriere al centro come vedete la fotonotizia il Carlinio la dedica alla notizia alla tragedia che si è consumata all'incrocio in un incrocio di Pesaro dove una donna una donna moldave è stata investita da un mezzo dei vigili del fuoco lei era in bicicletta purtroppo è morta sul colpo e poi in apertura il focolaio a casa Roverella un allarme nella casa di riposo falcidiata a marzo circa 15 le persone pazienti positivi gli ospiti positivi appello del comune di Pesaro all'area vasta e poi si parla delle aree 5 aree individuate per i tamponi di massa che partiranno nei prossimi giorni per tutti i marchigiani o meglio per tutti coloro che abitano nei paesi nelle città con più di 20.000 abitanti e poi sul Corriere Adriatico invece l'apertura per la stazione il risico della sosta il comune acquista i terreni di proprietari ferrovi dello Stato ma resta il nodo di Porta Cappuccina a centropagina la fotonotizia con la donna travolta in bicicletta e uccisa e poi Acquaroli che chiama il ministro Speranza e chiede una deroga per i paesi i paesi piccoli nostri marchigiani i paesi che vengono a volte divisi da una semplice via e che però per effetto del TPCM nel giorno di Natale nel giorno di Santo Stefano nel giorno del primo dell'anno sono zone off limits che non si possono oltrepassare pena pene multe salate intanto come dicevo il presidente della regione Acquaroli ha in consiglio regionale anticipato la chiamata al ministro Speranza nel tentativo estremo di riuscire ad allentare le maglie dei divieti nelle marche dove i borghi di vicinato sono una realtà importante ma non meno delle tradizioni familiari intanto però nelle domande risposte ieri il governo ha confermato la linea dura chiudo ricordandovi un appuntamento che è quello con il quale abbiamo aperto la nostra segna stampa ovvero la giornata delle marche quella che si svolge oggi e allora ricordiamo l'appuntamento alle 17 su Fano TV in diretta trasmetteremo dal museo pontificio della Santa Casa di Loreto del Salone degli Svizzeri questo appuntamento che avrà per titolo le marche che resistono i nuovi eroi testimoni del nostro tempo una giornata che celebra la nostra regione e che è dedicata a tutti noi e in particolare al mondo socio-sanitario marcheggiano e a proposito di Loreto per chi ci segue in diretta vi invito a rimanere con noi perché tra poco ci collegheremo con la Santa Casa dove avrà inizio la Santa Messa grazie per averci seguito e buona giornata a tutti grazie per aver guardato